Sindacati preoccupati per la situazione di El Foundry, l'azienda di Avezzano che dopo lo stop dei giorni scorsi, che ha spento a causa di un blackout allo stabilimento, ha avuto un nuovo guasto a causa della rottura di una condotta di raffreddamento. Si tratta del secondo episodio nel giro di pochissimo tempo. In pratica è entrata acqua nella clan room. Ad accorgersi della rottura sono stati i manutentori. Solo l'intervento dei tecnici ha limitato i danni. Un episodio che preoccupa a livello generale, che ripropone il tema degli investimenti da fare in tempi brevi. Dice Elvira De Santis della FIOM CGL. Il problema infatti riaccende i riflettori sul piano della manutenzione aziendale, per la quale i rappresentanti dei 1300 lavoratori insistono da tempo e chiedono chiarimenti alla proprietà. Per i sindacati la sicurezza deve stare al primo posto. C'è chiaramente un problema di sicurezza che ci vede molto attenti, perché i tempi li conosciamo, lo sappiamo tutti quanti, quello che sta succedendo nel mondo del lavoro sul tema della sicurezza. E quindi innanzitutto un campanello d'allarme su questo. Poi chiaramente c'è la preoccupazione sempre latente della tenuta dello stabilimento, che riguarda la tenuta dello stabilimento, in quanto questi incidenti di fatto lasciano un po' supporre che ci siano delle carenze da un punto di vista delle manutenzioni e quindi un tema di investimenti. Da parte delle organizzazioni sindacali c'è una preoccupazione continua che dura da molto tempo e purtroppo continuiamo a registrare un'assenza, una sottovalutazione di quello che sta succedendo da parte delle istituzioni in modo particolare regionale e anche nazionale, visto che i tavoli, anche che ci sono stati nei mesi passati presso il Ministero, di fatto non hanno prodotto particolari risultati. Ma non è solo questo. L'azienda è la più grande in provincia, la seconda in Abruzzo dopo la Sevel, e in un settore altamente strategico. È di proprietà cinese e ciò che preoccupano un po' con le sigle sindacali è anche il fatto che non si riesca ad avere un'interlocuzione con la proprietà stessa. Elfoundry opera nel settore della microelettronica, produce sensori di immagine prevalentemente nelle applicazioni automotive.